Prendersela col potere, quest'entità astratta e apersonale, è la cosa più facile. Così come facile è attaccare gli imbonitori e i demagoghi di turno. Secondo me bisogna dire come Petrolini, il quale, durante uno spettacolo, rivolgendosi a chi lo disturbava e continuava a fischiarlo, disse «Io non ce l'ho con te, ma con quelli che te stanno vicino e non t'hanno buttato di sotto». Voglio dire, come si fa a prendersela col potere che si alimenta col gioco di tutti? Potere e popolo rappresentano una medesima circolarità diabolica e infernale. Perciò bisogna prendersela, evidentemente, prima di tutto con coloro che vanno dietro e sostengono il potere, quindi attaccare pesantemente la massa, cercando di dissuadre le loro madri da nuovi parti. In considerazione del fatto che la mamma dei coglioni è sempre incinta e i coglioni degli idioti andrebbero sterilizzati. Per mettere fine a questa penosa e pietosa quarantena non servono firme, petizioni e simili. Basta uscire di casa tutti insieme e riprendersi ognuno la propria vita, la propria libertà, fregandosene del governo, facendo la rivoluzione in stile gandiano. Questo governo è incostituzionale e continua ad attentare la Costituzione e ciò, per quel che mi riguarda, è bastante a non riconoscerlo. Va da sé che le multe sono illegali e quindi non vanno pagate. Grazie.